Un uomo torna a casa e trova una televisione nuova. Allora va dalla moglie e dice, questo televisore è nuovo? Dice, sai, mi sono messa a pulire le macchine, ho iniziato questa nuova attività, ho pulito una macchina, l'ho lavata e con quello che ho guadagnato ho comprato questo televisore nuovo. Accidenti, brava. Il giorno dopo torna a casa e vede un frigorifero di quegli americani, nuovi, sai, bellissimi. Dice, gli dice alla moglie, questo frigorifero? Eh, ho lavato un'altra macchina e con quello che ho guadagnato ho comprato questo frigorifero meraviglioso americano. Bravissima, Maremo. Il giorno dopo torna e trova una lavatrice nuova, ma di quelle proprio bellissime, che lavano, asciugano, che fanno tutto, no? Dice, questa lavatrice? Ho lavato un'altra macchina e con quello che ho guadagnato ho comprato questa mega lavatrice fantastica, meravigliosa, la meglio di mondo. Ma sei bravissima. Il giorno dopo torna e trova la moglie davanti al fuoco che si scalda, no? Dice, oh, spostati da lì perché tu bruci la spugna.